Questa volta c'era anche la parte politica di Modica, almeno una piccola parte vicina ai problemi e dalle istanze degli operatori ecologici. Puntuali si sono presentati questa mattina i consiglieri d'opposizione, Momo Carpentieri, Ivana Castello e Tato Cavallino. Appena arrivati hanno subito incontrato i diretti interessati, i netturbini dell'Igm che hanno spiegato i motivi che ancora una volta li hanno portati a dover protestare. Grandi assenti invece i dirigenti della ditta chiamati dai tre consiglieri d'opposizione a un confronto sulla vicenda. Intanto l'occasione è stata utile per aggiornare i presenti sulla questione stipendi e sul perché dei ritardi. Siamo qui oggi tutti insieme per manifestare la nostra solidarietà con i lavoratori dell'Igm perché era stato firmato un accordo con il sindaco, l'Igm e i sindacati giorno 7 febbraio e l'accordo è stato disatteso perché entro febbraio i dipendenti avrebbero dovuto recuperare la mensilità di novembre più il 25% della mensilità di dicembre e così via fino poi praticamente a maggio. Questo non è avvenuto. Ovviamente tra l'altro ieri in consiglio è stata discussa proprio una interrogazione al riguardo e il sindaco ha risposto chiaramente dicendo che non ha pagato perché aspetta per due cause, due sono le modizzazioni. Uno il ritardo dell'arrivo della somma anticipata alla Cassa Depositi e Prestiti e questo non è vero ovviamente perché praticamente l'accordo è stato firmato il 7. La richiesta per l'anticipazione delle somma alla Cassa Depositi e Prestiti l'avrebbe dovuta presentare entro il 28 febbraio, quindi lei capisce che il 7 non può prendere un impegno per una richiesta che ancora dovrà effettuare a distanza di 17 giorni. La seconda motivazione è che le fatture sono state inserite in piattaforma, anche questo non è vero perché non c'è nessuna legge che impedisce di pagare delle fatture inserite in piattaforma e quindi certificate, perché la piattaforma è semplicemente un mezzo che si utilizza e che è messo a disposizione delle aziende per certificare il credito, quindi avrebbe potuto pagare. Una terza giustificazione emersa in consiglio è quella che la ditta non ha il DURC relativamente ad una mensilità, ma le altre due fatture le avrebbe potute pagare, quindi è tutta una montatura per prendere tempo e per prendere in giro i lavoratori. Grazie a tutti.